Buongiorno, innanzitutto scusate il fondale ma YouTube ieri mi ha messo in restrizione il video perché, raccomando, bestemmie finché si vuole, casino finché si vuole, mobiglia spaccata finché si vuole ma oh ragazzi, un ombelico di donna in copertina e chissà che pruderia viene ai bambini a un canale che è riservato, non è riservato ma è comunque indicizzato per maggiore di 18. Non ho caricato il video sul libro perché non mi piaceva, l'ho rifatto due volte poi lo trovo effettivamente molto bene lo rifaccio oggi, lo carico domani, vorrei semplicemente parlare di alcune delle cose successe in questi giorni in questi ultimi giorni, allora si va tutti in zona rossa, questo si è già capito Draghi ha fatto un discorso che a me ha emozionato quanto guardare un muro, anzi probabilmente guardare un muro era più emozionante, ma non per il discorso in sé ma semplicemente perché, ribadisco, c'è stata la narrazione della discontinuità, arriva Draghi, si cambia passo, si cambia tutto, sì peggio, le scuole sono più chiuse di prima gli studenti perderanno praticamente due anni di scuola e due anni sono buttati nel cesso ormai l'economia è un disastro, si continua a far gestire tutto a un pavido coniglio il pavido coniglio in questione, alias Ministro Speranza, intervistato da Repubblica che gli ha fatto un'intervista che, ragazzi, ma neanche cicciolina leccava così tanto il culo è entro la fine dell'estate tutti gli italiani che vorranno si votano a vaccinare entro la fine dell'estate, siamo a marzo, manca è cominciata la primavera tu stai dicendo ancora sei mesi così? e poi, scusi un secondo, ma qualche foto del 29 l'hai mai vista? le file della gente davanti alla messa a prendersi un pezzo di pane e un po' di brodo secondo te va avanti così per sei mesi e gli italiani reggono? un uomo che vede solo il suo orticello e lo vede pure male perché il punto di vista psichiatrico lui non lo caga neanche di striscio, il punto di vista economico non glielo chiedete tra l'altro lui non è neanche un medico e questo non è necessariamente un difetto perché qui si parla di amministrazione, non di medicina sul campo però, veramente qui si tratta di vedere proprio solo il proprio orticello cioè la gente non riesce a pagarsi le bollette in questo periodo non riesce a pagarsi le bollette non riesce a pagare gli affitti, non riesce a pagare un cazzo sta sprofondando e tu vedi solo il tuo orticello e dici a fine dell'estate sei mesi sei mesi, il paese è rovinato adesso, fra sei mesi fra sei mesi sarà nella fossa delle Marianne ma va bene, va benissimo Repubblica davvero giornale con una spina dorsale d'acciaio acciaio facciamo burro sotto il sole del Sara che è un po' più onesto gli fa un'intervista a Lecchina va benissimo però, ragazzi, che draghi lo elogi addirittura nel discorso no, io non lo accetto non lo accetto perché è uno dei responsabili di questa situazione non lo puoi elogiare non lo accetto umanamente poi lo capisco politicamente devi lisciare il pelo a tutti quelli che ti sostengono in questa maggioranza che è un patchwork è un negozio di pezze tra l'altro si cambia la forma non è più un DCPM non è più un DPCM quel cavolo che è ma diventa un decreto legge perfetto cambia la forma la sostanza è sempre quella gli italiani lo prendono in quel posto ma in una situazione così in cui bisognerebbe spartire il danno c'è l'aumento di stipendi statali non critico l'aumento di stipendi statali se era già stabilito vabbè c'è io critico il comportamento di Brunetta che a qualsiasi persona che gli fa un'osservazione anche banale dicendo qui il paese va a rotoli forse non era proprio opportuno sbandierarlo in questo modo salta la gola non faccio battute su Brunetta e la sua altezza no perché poi Giovanni giustamente mi cazza però guardate che sto resistendo forte alla tentazione perché sono onesto io Brunetta lo trovo un personaggio ignobile una persona che non accetta le critiche tutte le volte che uno gliene fa ma da moe da anni non è una cosa da adesso da anni tutte le volte qualcuno gli ha fatto una critica lui l'ha sempre buttata in cacciara l'ha sempre buttata in vacca e diventa astioso diventa rabbioso come se lui fosse il depositario di ogni conoscenza del mondo anche se a volte spara delle cazzate e ti resti le mani nei capelli per cui non ho ci sia una pregiudiziale nei confronti di una persona così antipatica e aggressiva anche quando ha torto però mi risparmio le battute su Brunetta magari ci penserà Foratini ci penserà Novauro così c'è stato Foratini perché compie 90 anni forse era meglio non sbandiarlo troppo ma vabbè ci sta anche quello magari ci sta un po' meno dal punto di vista etico vedere che questi politici non si sono tolti neanche un centesimo in tutti questi mesi mentre gli italiani sono stati spremuti fino al PUS citando San Simono quindi non lo so non lo so io ribadisco questi non vivono veramente nel mondo reale non sono gli unici perché anche gente che teoricamente viene nel mondo reale in realtà viene nel mondo dei fighetti da social tipo le sardine anche loro non vivono nel mondo reale loro vivono nel mondo del loro social in cui si fanno i complimenti o come diceva Mr. Wolf Ipom ecco a vicenda sì è una battuta volgare ma ci sta benissimo sono contento ad esempio che abbiano che finalmente abbiano messo cioè Orlando diamogli i meriti ha fatto questo cazzo di comitato per l'RDC e sono contento che abbiano messo una psicologa una sociologa come la Sara Ceni che è anche brava che giustamente ha detto quello che io quante volte ve l'ho detto io che si è creata una narrazione dell'RDC ignobile per cui i percettori dell'RDC sono visti tutti come fancazzisti gente che passa il tempo sul divano gente che aspetta il sussidio e si gratta gente che lavora in nero e fa la furbina questa è la narrazione che sta portando avanti nel tempo e questa narrazione ormai ha infettato le teste degli italiani che vedono l'RDC solo così salvo poi magari essere costretti a chiederlo perché hanno perso tutto hanno perso il lavoro non sanno come campare e allora magari si rendono conto che i percettori dell'RDC per la stragrande maggioranza sono persone che vogliono lavorare e il lavoro non c'è e tanto per essere chiari non è che il lavoro adesso salterà fuori perché mentre i dati di pianeta di lavoro qui si parla di migliaia di posti di lavoro che saltano al giorno ma non c'è il meccanismo di rientro cioè ne esce uno ne entra uno non è mai stato così in Italia mettiamo 10 persone vanno in pensione sono licenziate 3, 4, 5 sono assunte adesso se 10 persone se ne vanno fuori non entra nessuno perché le aziende non assumono ovvio gli mettono continuamente il blocco dei licenziamenti sono già strozzati io non parlo di quelle grosse quelle grosse queste le possono assorbire io parlo di quelle piccole che però lavorano all'interno di una struttura di indotto verso quelle grandi quelle piccole non ce la fanno per cui non assumono se quelle piccole chiudono i pezzi a quelle grandi non ci arrivano non è che la Fiat vi arriva il pezzo lo fanno tutto in farlo lo fanno tutto lì no c'è un indotto c'è una quindi una serie di fabbriche più piccole le aziende più piccole che producono se queste chiudono il materiale per quelle grosse non arriva quindi si rompe questa catena ma chi se ne frega no tanto cosa volete che sia si tratta semplicemente di economia reale tra l'altro altra cosuccio ho notato che suddolamente i supermercati stanno montando i prezzi mi mettono le offerte speciali ma su ma pian pianino alcuni prodotti aumentano di 10 centesimi 9 centesimi in una situazione così in cui la gente ha sempre meno risorse da spendere anche un aumento di 10 centesimi diventa pesante perché ti costringono ad acquistare quella cosa e non parlo di beni di marca non parlo di beni di marca parlo di beni magari marcati dalla stessa società che li mette in vendita i grandi gruppi commerciali che hanno i prodotti a marchio sono quelli che stanno aumentando non tutti alcuni alcuni li ribassano per un po' poi li rimettono al loro posto mentre altri aumentano poi magari li ribassano ma in offerte speciali ma poi tornano a quella cifra lì magari aumentano ancora un pochettino la gente non ha soldi adesso questi sistemi ridurranno anche gli acquisti perché non te lo puoi permettere la gente non può permettersi di pagare le bollette delle utenze non si può permettere di pagare le utenze io spero non ne hanno parlato da nessuna parte ma neanche quelli che ne parlano secondo me è una cosa di cui bisognerebbe parlare invece di continuare a gonfiare la retorica su adesso arriveremo adesso arriveremo a parte che adesso con l'Inps di mezzo è una parola molto molto gonfia ma vogliamo pensare anche esigenze reali cioè se la gente non pagare le bollette perché non si mette un'altra vocatoria la si è fatta l'anno scorso sospensione per x mesi delle bollette non peraltro perché gli italiani si chiede di stare chiusi in casa si chiede di perdere il lavoro si chiede un sacco di cose ma in cambio cosa si vengono dati i ristorici hanno cambiato nome cioè cambiare nome da ristore lo sostegno non cambia niente deve cambiare la sostanza delle cose non i nomi e invece ci si accontenta di questo sospensione di determinate cose a giugno vedrete che esploderà una bolla devastante la bolla che è già in cottura adesso perché adesso blocchiamo licenziamenti adesso come se la soluzione fosse quella non riattivare la macchina produttiva la macchina del lavoro no tenere fermi le aziende bloccando i licenziamenti ma le aziende a un certo punto il titolare si romperà i coglioni e chiuderà l'azienda appunto ma perché è una dinamica del mercato solo che vogliono spiegare i landini parlo di gente come i landini che si batteva per gli stipendi di Italia che erano tra i più alti tra i più alti in tutta Europa nel settore pur lavorando meno degli altri personali del settore cioè in Italia si prendeva di più si lavava meno rispetto a Lufthansa tanto per citare una grossa rispetto alla nuova Swissair rispetto alla nuova Aeroflot rispetto a Air France si lavorava meno e si prendeva di più poi capite che c'era dentro una voragine in Italia per forza ma gli stipendi non erano commisurati poi alla qualità del lavoro tanto per essere chiari però sono contento che ci sia finalmente qualcuno che cominci a dire è ora di finire con questa retorica panzona questa retorica facile verso i percettori del reddito perché è una narrazione che è andata avanti per due anni ecco il problema vero non è tanto che c'è questa persona adesso il problema è che per due anni non c'è stata è una persona da mettere subito e per due anni si è dormito come si è dormito scusatemi se passi pastiglie come si è dormito per la sua segna di ricollocamento come si sono dormite su tante altre cose si è dormito adesso questa narrazione si è incancrenita nel tessuto sociale o meglio nella vulgata della persona che assorbe la informazione in modo superficiale e questo è il vero problema ma se vogliamo dire la tutta ma veramente siamo ridotti parlo degli italiani ad aver bisogno che qualcuno ci leghi i comunicati perché siamo ridotti a questo io se devo non vi faccio un video in cui vi leggo il comunicato che guarda la zona russa ve lo leggete perché lo trovate tranquillamente in rete lo trovate tranquillamente dove sui quotidiani già vi dico dopo cosa penso dei quotidiani ma lo trovate non è una cosa irreperibile ve lo leggete poi se avete dubbi mi chiedete ma io non vi considero così incapaci e piatti da non saper leggere un comunicato da soli però si è arrivati a questo volete la pappa pronta alcuni vogliono veramente la pappa pronta questa narrazione ha prodotto dei danni continua a produrli produrre ancora per tempo perché andava tamponata all'inizio invece all'inizio non si è tamponato niente poi chi veramente si vuole mettere a discutere di queste cose lo fa altrimenti mi leggo i comunicati o mi leggono i testi di siti web fate un po' voi infine un vizio che è vero che è diffuso in tutto il mondo però in Italia è un marchio di fabbrica mi dispiace perché ve lo dico da straniero sono in Italia si vede questo tipo di atteggiamento quasi costante cioè il saltafila se voi andate in Giappone e saltate la fila vi sbattono fuori a pedate per dire il saltafila che vabbè succede in posta succede ai centri commerciali succede dal panettiere succede succede al bar anche perché adesso il bar avete visto come devono lavorare ma qui stiamo parlando dei saltafila ai vaccini e chi è che sta pompando dei saltafila ai vaccini i politici che sono allora se dobbiamo vaccinare in rapporto alla necessità i politici sono gli ultimi da vaccinare insieme agli avvocati altra categoria che cerca di saltar fila perché perché volete saltar fila perché siete necessari allora non voglio citare le gole i cimiteri pieni di uomini indispensabili ma voi ma manco ma manco ci dice avvicinate all'indispensabilità anzi una cosa io non so se veramente perché è una cosa che ho sentito ma non è che ci prestassi grande attenzione che sia un sindaco di fratelli d'Italia che abbia detto che vaccinare lui è più importante che vaccino ruolo oncologico ecco io posso dare un suggerimento la signora minori intanto questo video non lo vede quindi è un po' voce del sen fuggita però suggerimento chiama quel sindaco e lo butta fuori dal partito oppure ricordatevelo voi italiani invece che alle prossime elezioni andare sotto il palco a belare in favore del vostro idolo politico di turno andate sotto il palco con delle belle casse di pomodori fradici perché magari non avete tutto a raccoglierli perché non c'era nessuno da assumere e li ritirati in faccia perché uno che dice una cosa così è capite che fra lui e il letame il letame ha una dignità maggiore politici che saltano le file e ci sono politici che li ha giustificati prima qualcuno se lo dimentichi Sgarbi ha giustificato De Luca perché De Luca era necessario certo più o meno quanto un cancro ai polmoni ma perché quello che è è quello che non è che l'amministrazione della campagna collassa se non è attivo il suo governatore non prendiamoci per i fondelli è necessario anche qui la narrazione dell'importanza del politico scusate ma io se avessi incontrato il Marchese del Grille mi diceva io so io e voi non siete un lo dovevano tirare su quel cucchiaino però questi mi fanno schifo gli avvocati gli avvocati che dicono siamo indispensabili ma chi guardate che non è che è un attacco alla categoria è un attacco al concetto di saltafila io appartengo a quella categoria per cui salto alla fila e scavalco i medici scavalco gli anziani ma scavalco anche quelle categorie che essendo più esposte dovrebbero essere vaccinati prima volete qualche esempio gli autisti dei mezzi pubblici sono più esposti i panettieri sono più necessari i dipendenti dei centri commerciali sono più necessari perché effettivamente servono i clienti servono le persone che vanno a fare la spesa quelli sono che un avvocato che tanto vi rimanda la causa di due anni che un politico che tanto si fa sempre i cazzi suoi ma la categoria che se vogliono fare tutto più schifo in questo periodo che ci ha avuto una ghigna da chiedere sono i giornalisti i giornalisti si ritengono la categoria necessaria indispensabile e chiedono di saltare la fila sono gli stessi che vi ha fatto la narrazione in questo anno una narrazione che stava a metà tra lo scandalistico stile Daily Mail o National Enquirer e l'isterico una narrazione in cui nello stesso quotidiano in due articoli diversi si contraddicevano uno con l'altro questa qui è una narrazione che viene fatta dai giornalisti e la Luca Relli che ha avuto la ghigna di dire io non salto la fila però penso che la categoria debba essere agevolata sto usando termini non esattamente uguali a quelle che lei mi sembra che debba essere favorita non mi ricordo esattamente perché è necessaria perché in questo noi abbiamo raccontato allora a parte che l'avete raccontato in modo pedestre l'avete raccontato male vi siete adagiati sullo scandalistico e non si va molto indietro Corsera di qualche giorno fa Repubblica Lico Speranza fra lo scandalistico e l'eccaculismo andante cioè sembrava veramente in alcuni casi di leggere ancora Corsera del 24 cioè il delitto Matteotti ma si parla della morte di una bambina di Matteotti non parliamola perché sennò si offende il crapuno ma con quale faccia i giornali italiani cioè è plastico che ormai non vi legge più nessuno non vi compra più nessuno tranne i non so i fideistici i fidelizzati o quelli che lo prendono per abitudine ma ormai non vi si considera neanche più credibili non vi si considera neanche più credibili e giustamente Mentana ha detto bisogna avere un po' di dignità tanto di cappello a Mentana che ha detto bisogna avere un po' di dignità avere la faccia di dire noi dobbiamo scavalcare categorie molto più a rischio molto più necessarie fa schifo fa schifo e anche qui poi però ricordatevelo perché poi la brave pecore io escludo il discorso dei fan dei fan ne parlerò quando parlo del libro come introduzione a un problema di fondo nella lettura ma porca miseria ricordarla di questa gente che ritiene di essere una privilegiata perché nella sua testa in cui ci sono più moscerini che neuroni ha fatto la narrazione di questa situazione ma l'ha fatta col culo l'ha fatta col culo trovavi notizie più attendibili sul web rispetto ma non da giornalisti da blog di quello che facevate voi ma un po' di dignità un po' di dignità perché poi siete le stesse persone che si gonfiano della retorica dell'uno vale uno siamo tutti uguali bisogna privilegiare le competenze le necessità però quando vi viene bruciare il culo chiamato volgamente fifa allora vi permettete di fare queste uscite se c'è una persona che si deve vergognare chi supporta queste idee io vi saluto video lungo mi dispiace ci vediamo domani con video di libri ciao